Il bullismo causa cicatrici profondi ma invisibili. Le parole e le azioni hanno il potere di creare e distruggere. Scegli di essere una voce positiva nella vita degli altri, non fonte di dolore. Scegli di non essere un bullo, né online né nel mondo reale. Scegli di non ferire gli altri. Siamo tutti connessi, non esistono forti o deboli, solo modi diversi di reagire. Fai la differenza, scegli il rispetto. Fai la differenza, scegli il rispetto.